Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video guida. Oggi vi mostrerò come ottenere il forziere del carnefice presso le mura della regina. Come prima cosa dovete sapere che esistono tre punti diversi dove potete interagire con la vista profonda per avviare la ricerca del forziere del carnefice. Io in questo video ve li mostrerò tutti e poi voi deciderete da dove partire. Come seconda cosa dovete sapere che in questi punti dove si trova la vista profonda cambieranno zona e anche forziere del carnefice ogni giorno alle 18 del pomeriggio. Per il forziere del carnefice presso le mura della regina vi basterà andare nella zona canale in fiore. Qui troverete in tre punti diversi la vista profonda con cui interagire. Una volta che avrete interagito con la vista profonda a sinistra sopra la super avrete un timer di 30 secondi in cui dovremo muoverci a indagare sul cadavere infame. Dopo che avremo fatto indaga dal cadavere infame partirà una scia verde che dovremo seguire e ci condurrà verso un'entrata grande. Appena entraremo a destra per terra dovremo indagare sulle macerie. Ok ora prima di continuare con lo step vi faccio vedere gli altri due punti dove si trova la vista profonda per indagare. Ci tengo a precisare che su tutti e tre i punti dovrete indagare sul cadavere infame e che se sceglierete uno dei tre punti tutti vi condurranno verso l'unica entrata dove troverete le macerie da indagare. Io per completezza della guida vi farò vedere tutto. Ovviamente chi vuole proseguire con lo step vi consiglio di andare a 2 minuti e 21. una volta che avrete indagato sulle macerie da indagare il di nuovo partirà una scia verde che dovremo seguire. Ovviamente seguite il percorso che io poi ho fatto nel video anche perché a un certo punto la scia si interromperà e non la vedrete più. Sembra che sarà sparita nel nulla ma non è così. Una volta che sarete arrivati la linea si interromperà e vi comparirà un portatore di luce. quello che vi rimarrà da fare è semplicemente uccidere il portatore di luce. Una volta fatto questo rilascerà il forze del carnefice. Vi basterà aprirlo per andare avanti con il trionfo predatore dei predatori e cacciatore di tagli asceso. Detto questo ragazzi spero di esservi stato di aiuto nel caso in cui non abbiate capito qualcosa scrivetelo nei commenti io vi aiuterò. Come ultima cosa vi chiedo gentilmente di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale così vedrete altri contenuti che porterò a tema destini 2. Io vi ringrazio per aver visto questo video noi ci vediamo nel prossimo video ciao ragazzi